Musica Abbiamo recuperato ora le esche che abbiamo deciso di togliere momentaneamente Vedete che nell'attacco che abbiamo visto prima in diretta hanno completamente tagliato a metà la salacca Questo è un sistema che è ovviamente di derivazione tropicale Ma oggi e anche in altre occasioni abbiamo visto che effettivamente funziona Questo tipo di artificiale abbiamo ricevuto un sacco di strike È sicuramente un sistema molto falloso Poiché abbiamo ricevuto tanti strike ma poche allemate Sicuramente dobbiamo dedicarci più attenzione e studiare qualcosa Magari con un secondo amo della coda O trovare una soluzione per rendere meno falloso questo sistema Però sicuramente ha reso molto molto bene È stato uno degli artificiali in assoluto che ha ricevuto più strike oggi Siamo in pesca, abbiamo posizionato le nostre sette canne Da pochi secondi dei gabbiani ci hanno seguito le nostre esche Cercando addirittura un po' di prenderle Che è sicuramente sinonimo che stiamo pescando nella maniera corretta Poiché le nostre esche si stanno muovendo molto sinuosamente Ci troviamo a 5 miglia dalla costa Ora percorreremo una zona dove in genere riceviamo degli strike più che altro di tonni Che sono sicuramente delle zone ricche di pesce foraggio E vediamo se riceviamo qualche soddisfazione Grazie a tutti